No, no, non giocare con il tempo, però che preparata se non va a rimanere, non puoi fare Non è un'ata, con il primo UP, questo è il mondo del tempo, ma giocare con il tempo, e il tempo del tempo di organizzare, no r impossibile, non giocare con il tempo Grazie per voi, complimenti, e grazie a tutti i miei sensori, e grazie a tutti i miei sensori, e grazie a tutti i miei sensori. Grazie.